Il Consiglio regionale si è riunito l'11 aprile in seduta straordinaria per discutere della crisi produttiva e occupazionale dell'azienda automobilistica De Tommaso di Grugliasco. Nel dibattito è intervenuta anche l'assessore regionale al lavoro. E' stato poi approvato un ordine del giorno, primo firmatario Italia dei Valori, che impegna a fare chiarezza sulle responsabilità, valutando l'eventualità di un esposto presso la Procura della Repubblica per presunte irregolarità.